Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale, eccomi con le novità dell'autunno, quindi aggiornamento su quello che succede in ambito commerciale, collezioni private e nicchia. Abbiamo varie cose che stanno succedendo, nel senso che abbiamo innovazioni di prodotto, quindi profumo senza alcol, abbiamo profumi, o meglio un profumo alla cannabis in ambito commerciale, che di solito sono guizzi che non si vedono, abbiamo profumi per bambini e abbiamo profumi a impatto zero o quasi, quindi mi raccomando rimanete fino in fondo a questo video e soprattutto se mi piacciono i miei video iscrivetevi al canale, accendete la campanellina e soprattutto interagite con me anche sui social. Iniziamo subito in ambito commerciale con Paradox di Prada, devo dire di nome e di fatto perché colpisce per la bottiglia, si è visto tanto in comunicazione, hanno utilizzato Emma Watson come testimonial e devo dire che si fa notare con i capelli corti, sempre, non siamo abituati, nonostante sia passato un bel po' di tempo dalla fine della saga di Harry Potter, però il profumo non colpisce, lo dico. È un floreale muschiato che quindi piacerà molto a chi piacciono i profumi più muschiati, però è un po' un paradosso perché la confezione è strana, tenuta, un po' di qua, un po' di là, non si capisce dove debba andare, ma il profumo... Invece è un ni, diciamo, per J'adore Parfando, un ni perché non è un profumo che, anche in questo caso, esca particolarmente dal seminato come invece ha fatto per dire J'adore Anfinissime ed ha avuto un'identità propria che infatti sta avendo comunque molto successo nella range dei vari J'adore, questo più che altro è colpito perché ha un liquido un pochino opalescente, traslucidamente bianco e ha l'idea del profumo senza alcol, la holding che sta dietro i profumi di Dior o comunque Dior, Elve & Mash sta molto investendo su questo tipo di innovazione di prodotto. Tutti mi fate sempre la stessa domanda, Alberto, ma è senza alcol e quindi persiste? Vi devo dire, loro dichiarano che persiste come un eau de parfum, ma in realtà io lo vedo più, una eau de toilette rinforzata, quindi ancora secondo me c'è da vedere, c'è da fare. Considerate che loro sono proprietari di molti, molti brand di profumi, quindi lo ritroverete, cioè inizierete a trovare profumi senza alcol sicuramente in alcuni brand che sono appunto di proprietà della holding. Andiamo avanti, a proposito di brand sempre di proprietà, Guerlain Abirouge L'Instinct, no, decisamente no, è un profumo che contiene a quanto ci dicono le note olfattive, che è, o meglio, rievoca il sentore della cannabis, però non l'ho trovato una riattualizzazione di un classico così amato come Abirouge interessante, quindi non mi ha lasciato un po' così. Più che altro poi a livello di cannabis non è che si senta particolarmente, si asciuga prevalentemente da un sentore metallico più marino, quindi... Invece è un sì per Chalimar Millesim Tonka, a parte la dicitura Millesim che io ho sempre odiato, anche nei Creed, non l'ho proprio mai potuta soffrire, perché comunque è un erro, cioè uno pensa millesimato, quindi più concentrato, non è vero, negli champagne non è così, e però qua lo si usa. Invece Millesim nel caso di Guerlain, in questo caso legato alla Fava Tonka, perché Millesim Tonka è un profumo valido, cioè è un'idea per cercare di iniziare nuovamente a vendere Chalimar alle nuove generazioni. E secondo me si può fare, anche perché il prezzo è giusto, infatti tra l'altro non vi ho detto che i J'adore Paradox sono intorno ai 140 euro, 150, addirittura. Quindi vediamo che si alza il prezzo, si sta veramente alzando l'asticella, ho notato, nelle fasce di prezzo femminili, perché non si sa mai perché. I profumi considerati femminili in ambito commerciale costino di più di quelli maschili, non lo sapremo mai. Invece, lo Chalimar Tonka, scusatemi, sono un attimo smangiucchiato le parole, costa 107 euro per 50 ml, però è effettivamente più concentrato, ma più che altro, avendo note gourmand, che sono note già di per loro, che anche a basse concentrazioni durano tanto, sicuramente vi darà una grande soddisfazione. E qui, spero che qualcuno del gruppo di Chanel mi stia vedendo, vedete, ve lo dicevo, visto che tra l'altro è sold out questo Chalimar Tonka, andare a toccare un'icona come Chalimar è difficile, andare a toccare un'icona come Chanel numero 5 è difficile, però noi ci teniamo. Quindi, chissà, vi avevo fatto per il centenario il video di Chanel numero 5, dicendovi, ma perché non aromatizzare gli Chanel in numero 5, chiamandoli sempre numero 5 qualche cosa, numero 5 Tonka, numero 5 Vaniglia, così si poteva ricominciare a vendere. Non lo so, scusate se mi lamento come il vecchio davanti ai lavori, ma non vedo l'ora di potermi comprare una bottiglia di Chanel numero 5, di poterla indossare, contrariamente a quello che posso fare con quello attuale. Invece, assolutamente per me è un po' un ni, fame di Paco Rabanne. Mamma quanto lo aspettavo quel robottino, anzi quella robottina, l'aspettavo tantissimo. Più che altro è un ni per il progetto, nel senso che, secondo me, a livello di comunicazione, non hanno utilizzato lo stesso tipo di tono di voce per quanto riguarda il contraltare maschile, quindi Phantom. Per fame hanno cercato di fare una cosa un pochino più pulitina. La testimonial, secondo me, appunto non incarna questo mood un po' scansonato che aveva l'altro robottino e quindi forse non si è capita molto bene l'identità di questa robottina. Sicuramente a livello di fragranza, che poi in teoria è la cosa che ci interessa, ma non sempre nei progetti commerciali, fondamentalmente è una fragranza piacevole, ambrata, con note un pochino fruttate, insomma non ha dei guizzi, non esce dal seminato in quel profumo dolce, un po' caramelloso, che ha questa idea per questa tipologia di target più giovane. Invece, anzi no, ancora un Nii per H24, Eau de Parfum. Intanto, diciamo che il lato positivo è che abbiamo capito che H24 non è un profumo che deve durare 24 ore, ma è un profumo che è valido per le 24 ore. Quindi, me lo voglio indossare per andare alla mattina all'università, lo voglio indossare per andare il pomeriggio fuori con gli amici, o con la mia dolcio e metà, lo voglio indossare per la sera o lo voglio indossare per una festa la notte, oppure per un after alla mattina, H24 è versatile, va bene per tutte queste le occasioni. Ma non vi aspettate che un po' stile deodoranti, che sto vedendo veramente che mi farà brividire, cioè deodoranti 48 ore, deodoranti 72 ore, ma ci dovremmo lavare, direi. No, H24, no, non è così. Quindi, non vi aspettate che duri così tanto. E Eau de Parfum, devo dire, infatti, non ha performance particolarmente più alta è l'Eau de Toilette, non è un Eau de Parfum come a volte la nicchia ci ha abituati a Eau de Parfum che durano tutto il giorno. Quindi, rimaniamo per questo sonno. Invece, sarebbe... Come posso dire? Ci sono un po' rimasto male, perché Scandal Purom di Jean Paul Gaultier, credevo di essere riuscito... Scusate, Scandal Purom Parfum, Le Parfum. Credevo di essere riuscito a mettergli le mani sopra, e invece no, ho messo le mani sopra l'Eau de Toilette, che io avevo non considerato completamente. Ode Toilette, scusate, tappo rosso, invece Scandal Purom, che ancora, evidentemente, in Italia non è arrivato, tappo nero, sempre a forma di corona. E l'Ode Toilette, a questo punto vi parlo di questo, vi dico, l'Ode Toilette mi ha colpito, e tra l'altro è veramente sintomatico di come la differenza maschile-femminile veramente nelle fragranze non esista. e mi ha colpito perché è veramente similissimo a la franchise L'Antardy, quindi andate a sentire L'Antardy di Givenchy, Eau de Parfum, andate a sentirli perché veramente se li confrontate quando siete in profumeria è incredibile, sono la stessa cosa. Quindi fregatevene sempre di più di per uomo, per donna, perché è una cosa che non ha senso ancora di più. Parliamo poi di, invece, un sì che è Flora Gorgeous Jasmine di Gucci. È un sì con riserva, cioè nel senso che lo sentite e dite wow, che floreale strong, che idea di profumo anche più soliflor, che nel mondo dei commerciali vi ho detto essere molto difficile da trovare, ma che profumo iper spigoloso. Cioè, devo dire, si sente proprio questo gelsomino un po' psichedelico, nonostante il naso profumiere sia Albertone Morillas, però il profumo costi 146 euro per 100 ml, come vedete ritorna questa soglia fissa, però devo dire che rispetto ad altre fragranze, suonata il gelsomino, ma non commerciali, quindi non è una critica né al naso profumiere, né a chi l'ha prodotta, né evidentemente a Gucci, ma per stare come prodotto commerciale con determinati prezzi e più che altro inserendo comunicazione, outpost, perché poi mi hanno fatto un evento bellissimo anche di lancio con un outpost, per dire, in Piazza Cordusio, devo dire, ovviamente tutto questo va un po' a discapito della fragranza, lo sappiamo, quindi se potete scegliete più profumi di nicchia, questo era il messaggio, ma credo che ormai lo sappiate. No, invece, completamente, Tranchant, Noir Extreme Parfum, Tom Ford. No, perché 200 euro, cioè, siamo arrivati, in questo caso, nonostante sia un profumo in teoria maschile, siamo andati ben oltre, anche se la soglia prezzo di Tom Ford per la collezione Signature, credo si chiami, è sempre stata un pochino più alta, Black Orchid, sempre costato, sui 150 euro, esattamente come questi. E, però, con, in teoria, una concentrazione Parfum, saliamo di prezzo ancora di più. Ora, nel mondo commerciale, un Parfum non è mai come un Parfum vero. Quindi, se voi prendete questo, che è un Parfum, il giorno dopo vi svegliate, ancora ce l'avete indosso. Se voi prendete un Parfum, come invece, che ce li ho tutti di là, comunque, come un Bleu de Chanel, piuttosto che anche un Sauvage, per dire, Parfum, assolutamente non è lo stesso tipo di concentrazione. Quindi, per 200 euro, me la sarei aspettata. Invece... Ah no, è a livello di fragranza, scusate, non è così. Cioè, niente di più, niente di incredibile. È vero che abbiamo detto che le tendenze sono due. Cioè, fare, cercare il più possibile di fare lo stesso profumo che duri di più, da una parte, quando si crea, da un Eau de Toilette, un Parfum, oppure, dall'altra parte, andare proprio a dare un profumo diverso, appunto, stile Sauvage, in cui l'Eau de Toilette è decisamente diverso dall'Eau de Parfum, decisamente diverso dal Parfum e dall'Elixir e così via. Quindi, siamo più nell'idea, invece, di farlo durare di più, ma il gioco non vale la candela, perché 200 euro, ragazzi, aiuto. poi c'è un premio marketing da capire che è per Miss Dior Rose Essence. L'ho scoperto per caso, intanto, perché sono andato a fare il solito stalking al Banco della Rinascente, dove mai mi amano, qui a Milano, e lì me l'ha tirato fuori da un cassetto. questo Miss Dior particolare di cui io, sì, avevo letto, avevo letto, perché ovviamente cerco di essere aggiornato, ma né io, né lei, chi me l'ha raccontato, avevamo capito bene lei, la persona di Dior. Credo così, perché in realtà io avevo letto velocemente, lei in teoria lo racconta tutti i giorni, ma forse non così tutti i giorni, perché sta nel cassetto, e quindi, essendo una novità, magari ancora bisognava prendere dimestichezza, perché mi è stato detto che quel profumo è fondamentalmente un profumo fatto con gli scarti della rosa, quindi vuol dire che quello che hanno usato, Miss Dior Rose Essence, io mi immagino un'essenza, quindi già un profumo molto concentrato, di rosa fatta con gli scarti, come mi ha detto lei, in realtà, poi andando a leggere ovviamente sul sito, come spessissimo succede in profumeria, e mi rincuora che succeda anche nel corner presidiato dalla persona proprio di Dior, questa cosa è un po' un'imprecisione, perché sì, qualcosa è fatto con gli scarti della rosa, ma è la confezione, cioè il packaging è fatto con una percentuale di rosa che anche lì, io la capisco lei che giustamente come avrei fatto anch'io, pensava che il profumo fosse fatto con la rosa, no, la confezione che comunque non è che sa di rosa o che cosa, quindi, niente, il profumo è un'acqua di rose a 170 euro per 100 ml, ora, io quando dico acqua di rose mi viene sempre in mente Roberts, 5 euro per 300 ml, che è l'acqua di rose struccante praticamente, quindi questo non è uno struccante, è in teoria un profumo che è un'essenza, ma non è un profumo, però, non è una lamentela, ovviamente, giustamente il marketing ci prova, il profumo è molto attento all'ambiente, a quanto abbiamo capito, a livello di produzione, però, forse, vi lascio il papiro da leggere, forse non è così immediato per questo premio marketing particolare. Poi abbiamo anche l'acqua di Parma Magnolia, ma non ve ne parlo praticamente, perché è un no, proprio, visto che entra in una collezione, anche questa si chiama Signature, forse Signature of the Sun, se non sbaglio, con prezzo altissimo, direi che per questo profumino, muschiattino, lievemente florealino, assolutamente, io non vi consiglio di spendere quei soldi. Wow, quante novità commerciali, ce ne sono tante, qualcuna l'ho lasciata fuori, quando le lascio fuori è perché tendenzialmente proprio o non ho avuto la possibilità di sentirle perché non c'erano proprio ancora disponibili in Italia e per fortuna ricomincerò a viaggiare, spero a breve, e quindi riuscirò a incrociare con altri paesi d'Europa perché è la cosa veramente più utile di tutti, ma altre perché invece proprio non aveva senso parlarne, ma mi raccomando lasciatemi un commento se invece voi intendete dire no Alberto guarda che quella cosa era interessante, vedo che però mi sto dilungando, quindi corriamo alle collezioni private che comunque sono meno e abbiamo un nì per Hermes Hans Violet Volinka che è un cuoio è violetta 100 ml 245 euro o de toilette come sempre fa Hermes ispirato a questo cuoio Volinka fondamentalmente a un tipo di concia vegetale o meglio anticamente veniva fatto con un tipo di concia vegetale poi lasciata perdere e che veniva immergendo in bagni di corteccia di betulla e dopo aver triturato tutta una parte di corteccia di quercia me l'ha spiegato benissimo ma io l'ho detto male invece sì assolutamente per quello che io con grande maestria con grande sicurezza e pomposità direi avevo definito cabriolet quindi sono andato e ho detto davanti al banco Hermes ho detto fammi sentire cabriolet vedevo che c'era rimasto una persona un po' così colpita cabriol che non è cabriolet ma vuol dire capriola e cabriol praticamente è un profumo per bambini su note di osmanto sandalo e caprifoglio è un profumo senza alcol che viene detto da utilizzare sopra i tre anni e a questo proposito vi dico che forse andrà a dare un pochino fastidio ah dove ho messo perché non ce l'ho qua era sopra Petit Hange di Parfum De Nicolai che vi consiglio invece e che ha un profumo su note di tangerino e di lilla che a me è sempre piaciuto per quell'effettino talcatino che secondo me per profumare un bambino ci sta sempre tanto bene ma passiamo a Guerlain collezione privata mannaggia questa collezione devo dire l'hanno rimpacchettata sempre stata con una distribuzione un po' assurda non so non mi convincerà mai cioè devo dire che non spenderò mai per queste fragranze credo anche qua siamo intorno 295 euro per 100 ml almeno sono ricaricabili c'è da dire questo è un pack gelido e le fragranze non sono mai sbalorditive o non hanno diciamo non ti guizza qualcosa ditemi sotto se voi usate qualcosa comunque abbiamo due novità una Wood Cherry che segue questo filone secondo me non troppo azzeccato delle ciliegie devo dire a me non ha mai preso e Wood Cherry senza infamia senza lode è un Wood che poi si asciuga un po' più cuoiato però boh e poi Wood Nude che invece mi piace moltissimo il nome molto carino e vaniglia mandorla lampone ha questo asciug ha questo dry down un po' soft touch invece poi assolutamente un no per zero cioè proprio zero secondo me zero profumo ha detta loro impatto zero una spatafiata di informazioni che secondo me ti distolgono anche un po' dal senso del profumo e è anche lì secondo me anche cioè si sono poi persi nella cosa un po' più banale ne prendo uno a caso non ho qua quello cioè fondamentalmente il profumo non è apribile quindi magari ci sono state delle attenzioni mettete fermo immagine leggetevelo che hanno avuto ma che in realtà poi la cosa più importante è che uno non riesce effettivamente a togliere lo spray e quindi anche per riciclarlo il vetro cioè ti tagli un dì non lo so quindi da vedere non mi dilungo troppo andatelo a sentire però no e poi anche lì mi stupisce sempre perché fai un profumo impatto zero e tutti gli altri ha impatto mille quindi questa cosa non lo so non mi è mai piaciuta anche se si apprezza devo dire si apprezza il gesto quello sì e speriamo che anche tutti questi profumi che ho qui dietro arrivino a sempre di più entrare nel mondo dei profumi attenti all'ambiente fine con i profumi di nicchia andiamo con un sì che è Uncut Gem di Fredrik Mal e naso è cioè firmato da Maurice Roussel il profumo a zenzero vetiver musk è un legnoso aromatico ambrato e ha dentro anche nota di angelica mi ha colpito perché quando ho letto Gem mi aspettavo qualcosa di pulito rifinito così e invece giustamente è uncut quindi è una cosa un po' più grezza e mi è piaciuto devo dire è un po' un melange di note di cui tra le quali non si percepisce una nota più dell'altra però è abbastanza elegantino Roussel è quello di Mask Avenger quindi se voi già utilizzate il brand sapete vi è piaciuto il mask che so essere un cavallo di battaglia provatelo mi barra o per Legacy o Petra nel senso che mi piacciono le performance perché dura tanto per essere un penaligons c'è il mio video che infatti vi racconterà quanto poco durino e poi invece l'ho trovato troppo diretto sulla liquirizia cioè poteva essere veramente se voi lo togliete la bottiglia lo mettete in un The Library of Fragrance che si chiama liquirizia che sono quei profumi immediati su una singola nota veramente sa tantissimo di liquirizia o come mi è stato detto giustamente al corner sa proprio la rotellina di liquirizia a ribo che io mangiavo a manetta sa proprio di quello quindi nulla di particolarmente elegante quando poi invece assolutamente un no per Eyes Closed di Bairedo cioè chiudiamo veramente gli occhi ma nel senso che già dopo il primo spray senti questa fragranza che dopo due ore non senti assolutamente più e ritorna che qui quanto vi avevo detto nel video di Bairedo andatevelo a vedere perché è un po' imbarazzante cioè si creano quelle scene in cui mi metto veramente ai panni del venditore fai sentire il profumo se la vendita ti dura un'oretta metti si riprende il cartoncino e non lo si sente particolarmente più quindi aiuto 205 euro 100 ml vabbè ultimo profumo Broma Vir allora sono incappato in questo profumo e devo dire è un profumo che è proprio no per me con cannabis che non sa di cannabis incenso che sa di verde e non sa di incenso wood che sa di verde e tabacco verde cioè è un profumo veramente tendenzialmente tutto verde che però ha dentro tutte cose che non sanno di quella cosa per mixare in un insieme che si magari un pochino colpisce perché è un po' strutturatino ti duricchia abbastanza però dici aiuto cioè ne avevamo veramente bisogno non lo sapremo mai detto questo amici grazie se siete arrivati fino al fondo al video e mi raccomando sì lasciatemi tanti commenti di cui se siete arrivate in fondo al video scrivetemi halloween così a voi sicuramente rispondo e lo capisco al prossimo video ah non vi ho detto l'ultima cosa nell'ultimo video sull'aggiornamento che sarà quello di natale quindi video attesissimo sicuramente faremo la premiazione del profumo più riuscito per l'anno 2022 quindi adesso capirò come però vi ingaggerò in questo meccanismo di premiazione così avremo il premio all'anno nostro della nostra community ciao alla prossima